Consueta messa mattutina per Papa Francesco a casa Santa Marta. Durante l'omelia ha ricordato che il Regno di Dio cresce con la docilità, non con gli organigrammi. Ascoltiamo. Il Regno di Dio è in cammino, si fa tutti i giorni. Non è una struttura tutta ben fatta, tutta in ordine, organigrammi ben fatti. Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa celebrata oggi a Santa Marta. Gesù nelle sue parabole parla di cose della vita quotidiana e poi il seme che non rimane seme perché muore e dà vita all'albero. Lievito e seme, ha osservato Francesco, sono in cammino per fare qualcosa, ma per fare questo muoiono. Non è un problema di piccolezza, è piccolo, è poca cosa o cosa grande. È un problema, ha rilevato il pontefice, di cammino e nel cammino succede la trasformazione. Qual è l'atteggiamento che il Signore chiede a noi? Perché il Regno di Dio cresca e sia pane per tutti e abitazione anche per tutti. La docilità, non la rigidità, la risposta del Papa. Il Regno di Dio cresce con la docilità alla forza dello Spirito Santo. L'uomo e la donna, docili allo Spirito Santo, ha affermato il Papa, crescono e sono dono per tutti. Anche il seme è docile per essere fecondo e perde la sua entità di seme e diventa un'altra cosa, molto più grande e si trasforma. Così è il Regno di Dio, in cammino. In cammino verso la speranza, in cammino verso la pienezza. Se invece non camminiamo, diventiamo rigidi e la rigidità ci fa orfani, senza padre, così non cresce il Regno, non cresciamo noi. Sarà la docilità allo Spirito Santo che ci farà crescere e trasformare come il lievito e il seme.